signori buongiorno e bentornati sul canale master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale secondo appuntamento con questa serie estiva sull'ambientazione collaborativa e questo è probabilmente il video che era più atteso da quelli che effettivamente hanno partecipato in prima persona al progetto perché questa settimana andiamo a vedere quali sono le singole idee che sono arrivate e che poi sono confluite tutte nei video del mega riassunto che avete già visto settimana scorsa abbiamo parlato su come raccogliere il materiale nella maniera migliore adesso andiamo avanti diciamo che nel nostro esempio i vostri giocatori vi hanno mandato le loro idee e voi adesso dovete iniziare il processo di creazione vera e proprio cosa dovete fare il primo passo è ovviamente quello di andare ad analizzare tutto il materiale che vi è stato fornito e andare a vedere quali sono effettivamente queste idee quindi non perdiamo altro tempo questa settimana andremo proprio a parlare di analizzare le idee ve lo dico subito probabilmente qualcuno di voi ci resterà deluso ma no non leggerò per intero tutte le proposte che sono arrivate perché se no questo video finirebbe per durare tre ore e io dovrei poi passare il resto dell'estate a montarlo ho un libro da scrivere e fa anche caldo non mi metterò a fare queste cose vi lascerò comunque i testi integrali delle varie proposte che sono arrivate su un lato dello schermo per onestà intellettuale e nel caso voi siate interessati proprio a leggere la proposta che è arrivata non fatevi problemi a mettere in pausa il video e leggere quello che c'è scritto prima di cominciare però voglio spendere due parole sul quanto questo aspetto dell'intero processo di creazione collaborativa sia particolarmente importante sembra ovvio a dirsi ma se voi chiedete ai vostri giocatori di fornirvi del materiale da usare in quest il minimo che dovete fare e poi perlomeno quello di prendervi la briga di andarlo a leggere ed effettivamente utilizzare questo vale sia nei casi come il nostro che voi stiate effettivamente chiedendo ai giocatori di mandarvi il materiale per creare un mondo di gioco ma anche in situazioni molto più banali come potrebbe essere quella del richiedere che vi forniscano in retroscena dei loro personaggi prima dell'inizio dell'avventura ecco questo potrebbe essere l'esempio più banale di tutti se voi chiedete ai vostri giocatori che vi forniscano dei background per i loro personaggi allora poi avete il dovere morale di andarveli a leggere e vedere come poter usare quelle informazioni e per integrarle all'interno di quella che poi sarà la trama della vostra avventura o della vostra campagna questo non vuol dire che siete per forza costretti a chiedere sempre contributi da parte di tutti i membri del tavolo potete benissimo decidere che tutto il materiale che avete intenzione di usare in sessione sia qualcosa che avete scritto voi o che avete comprato dei moduli specifici quello che è è perfettamente legittimo ricordatevi solo che nel momento in cui voi fate la richiesta di materiale ai vostri giocatori allora avete il dovere di utilizzare quel materiale e se non avete intenzione di farlo perché non avete tempo non avete voglia e non vi interessa l'esperienza allora non fate fare lavori inutili al resto del tavolo se già sapete che non avete intenzione di usarli chiarito questo iniziamo con le proposte vere e proprie ve le leggerò nell'ordine in cui mi sono arrivate e il primo praticamente la sera stessa a rispondere è stato Mattia Di Chio del gruppo Segrete Dragoni trovate anche il link qui sotto in descrizione la proposta di Mattia è quella in cui viene citata la misteriosa entità planare chiamata il Sognatore il Mega Dungeon che lui propone è costruito su di un punto di contingenza tra i vari piani elementari quindi le varie forze naturali qui sono in continuo contrasto tra di loro ma ci sono varie schiere di inevitabili gli abitanti meccanici dei piani della legge per chi conosce varie ambientazioni di D&D che cercano di contenere le forze e studiare queste misteriose strutture presenti nel Mega Dungeon collegate in qualche modo a questo Sognatore qui abbiamo già un paio di quelli che poi vedrete diventeranno gli elementi ricorrenti cioè il fatto che il Dungeon abbia delle zone elementali estreme e che sia abitato da un qualche tipo di creatura meccanica anzi che ci siano fazioni di creature meccaniche in conflitto tra i loro perché tra gli inevitabili nel Dungeon del Sognatore in realtà sono presenti due fazioni politiche quelle a favore dello studio di questi segreti e quelle invece contrari che preferirebbero vederli distrutte per mantenere meglio l'equilibrio planare il secondo a rispondere è stato Giorgio Gandolfi e la sua proposta prevede che il nostro Mega Dungeon sia all'interno di un ancora più vasto deserto Giorgio ci parla di un lago sotterraneo abitato da Marlock una delle razze di uomini pesce presenti in varie ambientazioni ma anche di un gruppo di nani malvagi e altre creature del sottosuolo che sono interessate allo sfruttamento del Mega Dungeon perché al suo interno ci sono cristalli che hanno possibili capacità magiche nascosti negli strati più bassi vicino a quello che è il nucleo planetario che nel suo caso viene descritto come un enorme rubino con proprietà magiche Giorgio non fa riferimento diretto a creature meccaniche ma parla di giganteschi vermi con la carazza di Adamantio che scavano costantemente nella roccia per allargare ulteriormente il Mega Dungeon e chi ha poi visto i video del Mega riassunto probabilmente riconoscerà questo elemento specifico anche nella proposta di Stefano Blubasso si parla di creature meccaniche e di una sostanza cristallina con proprietà magiche che potrebbe avere un grande valore per gli abitanti del mondo al di fuori del Mega Dungeon ma questo Mega Dungeon era originariamente un'enorme struttura sottomarina in cui una fazione di maghi aveva costruito delle strutture per raffinare questa sostanza magica direttamente dalle acque di quello che era chiamato il mare scintillante purtroppo per loro c'era un'altra fazione di maghi nel loro mondo che aveva evidentemente un'idea diametralmente opposta su chi dovesse avere il controllo dei cristalli magici estratti dal mare che ha scatenato una guerra che ha portato al prosciugamento totale del mare che anche in questo caso adesso è un enorme deserto ha sigillato gli originali maghi che abitavano il Mega Dungeon nelle loro strutture ma poi questa fazione di maghi malvagi si è autoimplosa perché una volta che hanno vinto la guerra si sono poi ammazzati tra i loro per vedere chi effettivamente avrebbe controllato i cristalli magici questa è una delle proposte che si è concentrata un attimo di più sulla politica ed è anche una delle poche che dà una vera e propria storia delle origini del Mega Dungeon e non solo un mito a cui rifarsi ma che sia un sentito dire o un'elaborazione successiva noi sappiamo proprio cosa è successo perché il Mega Dungeon diventasse quello che è adesso e ci sono poi anche altri elementi che come vedete si cominciano già a definire degli elementi veri e propri ricorrenti tra varie proposte scollegate tra i loro e anche se all'epoca lui non poteva saperlo quella di Roccone è probabilmente una delle proposte che contiene la maggior parte di questi elementi tutti assieme nella sua proposta un colossale terremoto ha riportato alla luce gli strati alti di una città che è rimasta congelata nei ghiacci perenni per non si sa quanto tempo e adesso gli avventurieri sono chiamati ad andare a esplorarla e riportare alla civiltà i suoi favolosi tesori soprattutto dopo che è diventato chiaro che il livello tecnologico degli abitanti originali di questa città bloccata nel ghiaccio era molto superiore a quello attuale degli abitanti di superficie tra i pericoli che però cercheranno di impedire agli avventurieri di recuperare questa tecnologia fantastica ci sarà oltre il ghiaccio sfoghi magmatici negli strati più bassi del megadungeon varie creature ostili al suo interno e una razza di umanoidi trogloditi che adesso abita le antiche rovine di questa civiltà per Gianluca Vecchi invece il megadungeon è una struttura diciamo di origine naturale è stato creato in tempi remoti quando gli dèi osservando le loro creazioni e capendo che erano imperfette piansero così tanto che le loro lacrime sommersero il mondo e scavarono vaste voragini nel terreno l'esterno del megadungeon è quindi una landa brulla e devastata da questo pianto cosmico ma man mano che si scende nei crepacci scavati dalle lacrime c'è sempre più umidità che è rimasta trattenuta al terreno e quindi nel megadungeon nella parte sotterranea si è venuto a creare una vera e propria giungla tropicale e lussureggiante perché qua c'è molta acqua anzi fin troppa acqua e questa foresta primordiale è abitata da lucertoloidi trogloditi e altre creature preistoriche come vedete si stanno cominciando a delineare ulteriori elementi ricorrenti anche Gianluca si è concentrato sulla politica e a contendersi il controllo del megadungeon abbiamo tre principali fazioni i lucertoloidi che vedono la giungla come la loro dimora ancestrale vogliono difenderla da chiunque provi a dire il contrario una fazione di Nani che è interessata a sfruttare le risorse del sottosuolo e usare il megadungeon che per larga parte è già scavato abbatterebbe molto i loro costi e quindi sono interessati a prendere il controllo e un gruppo di famiglie nobili che finanzia gruppi di avventurieri per mandarli al megadungeon alla ricerca di possibili conoscenze o tesori perduti o in alcuni casi per motivi più misteriosi Lucertola Rossa con la sua proposta ha voluto strafare ma tecnicamente lui è un professionista di queste cose se vi ricordate Lucertola Rossa l'avevamo incontrato nel video dei Modena Play direttamente a Modena quando stava presentando il suo gioco Armalia la sua proposta è infatti una delle più strutturate e gira attorno alla mitica città di Babilit costruita in tempi immemori da i grandi esseri che vi racchiusero al loro interno le loro infinite conoscenze che superano di gran lunga quelle che attualmente i piccoli uomini che sono gli attuali abitanti del mondo possono anche solo immaginare il dungeon sarà poi un complesso di rovine sotterranee costellate da quello che resta degli smisurati macchinari che i grandi esseri utilizzavano per i loro scopi misteriosi tra cui ancora si aggirano i loro servitori meccanici e che la leggenda vuole che al centro del complesso si trovi un meraviglioso giardino all'interno del quale c'è un artefatto che potrebbe ridonare la vita all'intero mondo il mondo al di fuori del dungeon di Lucertola è un'ambientazione devastata post-apocalittica questo macchinario racchiuso nel cuore magico della fortezza in realtà come possa rigenerare la vita in realtà in questo momento stia creando veri e propri mostri che si aggirano per la struttura rendendo difficile la vita degli avventurieri anche nella sua proposta viene fatta un'esplicita menzione del fatto che non tutti sono d'accordo sull'andare a recuperare le conoscenze dei grandi esseri del passato dato che non solo potrebbero essere pericolose ma sono anche quelle che in un modo o nell'altro hanno distrutto il mondo rendendolo un paesaggio post-apocalittico e quindi potrebbero farlo di nuovo se non usate con estrema cautela questo è una delle divisioni politiche fondamentali tra i vari gruppi dei piccoli uomini attuali che in realtà infestano le rovine anche in questo caso abbiamo un complesso di rovine sotterraneo che però contiene anche vegetazione dalle origini bizzarre esseri meccanici e fazioni che non sono d'accordo su quale sia il corretto uso delle conoscenze che il Mega Dungeon potrebbe possedere Ivan va in reale controtendenza con tutti gli altri con una delle proposte più singolari tra quelle che sono arrivate il Mega Dungeon stesso è un'unica creatura marina dalle dimensioni così inconcepibilmente smisurate da contenere un intero ecosistema al suo interno nel suo perpetuo peregrinare per i mari ha distrutto così tante navi e ne ha ingoiato i naufraghi che adesso all'interno del suo corpo è venuta a crearsi una piccola civiltà di sopravvissuti che ha imparato a prosperare all'interno della bestia stessa e a difendersi da quelli che sono i pericoli ambientali che nella pratica però sono il sistema digerente della creatura e veri e propri mostri che sono vari organismi simbionti del mostro ma anche parte del suo stesso sistema immunitario che evidentemente sta cercando di risolvere questo complesso problema di digestione questo è sicuramente uno dei mega dungeon più strani che sono stati proposti e ha pochi elementi in comune con gli altri ma per chi ha visto poi la serie probabilmente ha già capito come questa idea è stata utilizzata diciamo però che questa è quella che ha richiesto un attimo più di adattamento e ne parleremo poi tra un paio di settimane in un video apposta di questa e in realtà di quello che sta per arrivare dopo perché Rocco che è il figlio di Roccone anche lui ha fatto una proposta in controtendenza con quella di tutte le altre e il suo mega dungeon è la foresta di White Bull Hood come Mattia Rocco dà un'origine transplanare al suo mega dungeon ma in questo caso si tratta di una faglia che collega il piano materiale a quello che è il reame fatato versioni diverse di Dungeons & Dragons e altri giochi fantasy gli danno un nome diverso ma diciamo è il punto in cui il mondo dei mortali entra in contatto con il mondo dei folletti Rocco si rifà abbastanza pesantemente al folklore celtico per il suo mega dungeon parla di un malvagio signore dei folletti bambini rapiti e qualunque altra cosa stesse cercando di fare David Bowie nel film Labyrinth ma l'elemento più importante della sua proposta è che è stato l'unico a proporre una vera e propria meccanica per l'avanzamento nel mega dungeon basata sulla generazione randomica degli incontri per rappresentare il fatto che il mondo dei folletti sia un ambiente onirico e non abbia una reale geografia e che la realtà stessa dove si trova il dungeon stia collassando lui propone che l'esplorazione del mega dungeon avvenga in maniera randomica e che quando i giocatori abbandonano un'area per vedere dove arrivano la stanza successiva per dire così venga generata randomicamente attraverso un tiro di dado questo lo rende un vero e proprio incubo da esplorare ed è un'ottima idea per simulare nei giocatori stessi oltre che nei personaggi quanto è disorientante un'avventura attraverso i piani soprattutto in un piano come quello dei folletti l'ultima proposta è quella di Paul che invece ci riporta a idee che abbiamo già visto varie volte all'inizio anche se anche in questo caso rimischiate tra i loro in una forma singolare questo mondo è interamente avvolto nel ghiaccio in un'era glaciale ma in una zona remota c'è un complesso di rovine intrappolato nei ghiacci perenni ma che presenta alcuni accessi perché alcuni sfoghi magmatici sotterranei sono andati a formare fondamentalmente delle sorgenti termali sciogliendo il ghiaccio e creando proprio dei bacini termali dei laghi caldi sotterranei che permettono poi tramite gli sfoghi di vapore di scendere dalla superficie ghiacciata attraverso le rovine fino alle profondità sono due elementi che si sono come ho detto già visti in questo caso Paul però si è concentrato molto sui pericoli legati al ghiaccio al freddo e come attraversare il mega dungeon per gli avventurieri sia un pericolo proprio per via del clima più che per possibili mostri e trappole anche in questo caso però abbiamo possibili tesori i tecnologici che risalgono ai tempi dei costruttori originali della città e due fazioni in disaccordo sul fatto se questa tecnologia dovrebbe essere studiata e ripristinata o se dovrebbe continuare a restare un segreto perché potrebbe portare molti più danni rispetto a quelli che ci si potrebbe immaginare come avete visto per quanto si tratti di una serie di proposte singole fatta ognuno da una persona diversa che non ha collaborato con gli altri in realtà non hanno neanche visto le rispettive risposte prima di scrivere le loro abbiamo già potuto vedere che sono emersi vari argomenti ricorrenti che saranno proprio i punti da cui andremo a cominciare a lavorare per poi creare l'intera ambientazione nel nostro mega dungeon adesso è quindi arrivato il momento di andare a fare una vera e propria analisi vedere per bene quali sono questi punti andarli a smontare e poi ricostruirli per rendere il tutto coerente con se stesso e farlo diventare un'unica singola ambientazione ma ovviamente non lo faremo questa settimana perché il video è già durato fin troppo e voi non avete idea il caldo che fa qui dentro a registrare d'estate quindi settimana prossima vedremo il resto del processo prima di chiudere però io voglio cogliere l'occasione di nuovo per ringraziare tutti quelli che hanno partecipato al processo perché senza di loro non solo non ci sarebbero stati i video originali ma non ci sarebbe stata la possibilità neanche di fare questa serie di esempio quindi io li ringrazio a nome del canale ma ringraziateli anche voi perché senza di loro io non avrei potuto farvi queste lezioni mettiamola così e comunque perlomeno ringraziatevi del fatto che dopo avete visto questo video probabilmente ruberete loro qualche idea io lo farò almeno questo video termina qui settimana prossima ritorneremo sull'argomento come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividete l'ho chiuso a crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche se le notifiche non vi arrivano in descrizione trovate i link al server di disco dal gruppo i telegram dove metto io gli annunci manualmente e dove la community si ritrova per fare anche questo genere di cose per il resto io sono il master CAE e noi ci vediamo nel prossimo video